Vengono A, vengono A Ne sono più di uno Mamma mia che mossa il GP Ma chi è porco Dio Ma chi è? Che sangue freddo Li va a passare Ta 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 Li va a passare Questa è una giocata da 10 milioni di dollari Questa è una giocata da 10 milioni di dollari Stai zitto Simione Porco Giuda Stai zitto Simione Stai zitto Simione Stai zitto Simione Stai zitto Simione